Ciao a tutti ragazzi, buon lunedì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EveryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Oggi cominciamo da Microsoft, dato che la casa di Redmond, insieme a 343 Industries, ha annunciato Halo 5 Guardians, il nuovo capitolo della storica saga. Si parla di un'uscita prevista per l'autunno dell'anno prossimo e di un comparto grafico completamente rinnovato, anche se manterrà dei punti in comune con l'engine del precedente capitolo. Parliamo comunque di 60 fps, di una grafica notevole sviluppata completamente per Xbox One e dei server dedicati per il multiplayer. Qualche piccolo dettaglio anche relativamente alla trama, dato che essa conterrà un personaggio completamente nuovo che dovrebbe far parte dell'ONI, ossia l'agenzia di Intelligence, che fino adesso si è vista soltanto nella parte letteraria della saga di Halo. Da Redmond ci dicono anche tuttavia che il nostro viaggio di Halo per questa nuova generazione potrebbe iniziare già quest'anno, magari con un remaster HD, chi lo sa, lo scopriremo sicuramente alle 3. E in vista delle 3 2014, grandi novità anche da Ubisoft. La casa francese ha annunciato infatti Far Cry 4, in uscita questo autunno su PC, console di vecchia e nuova generazione. Purtroppo non è stato preso in considerazione il Wii U. L'ambientazione sarà questa volta Kirat, ossia una regione dell'Himalaya, governata da un dispotico sovrano al quale naturalmente porteremo guerra. Ci sarà come sempre tantissimo territorio da esplorare e moltissime armi da utilizzare. Le prime informazioni più precise relativamente al gameplay e anche i primi video in-game saranno mostrati naturalmente all'ormai imminente E3. E stando a sentire quanto dice l'insider Tydux, all'E3 potrebbe essere svelato anche il nuovo gioco di Death Game Company e potrebbe trattarsi non necessariamente di un'esclusiva perché, lo ricordiamo, dopo lo sviluppo di Journey gli sviluppatori sono rimasti ufficialmente liberi. Anche in questo caso ne sapremo di più tra pochissime settimane. A quanto dice invece Todd Howard, produttore esecutivo e game director presso Bethesda, la casa è al lavoro su un titolo next-gen. Non ha dato ulteriori informazioni in merito, naturalmente, ma semplicemente ha ricordato quanto le grandi disponibilità di memoria dei PC di ultima generazione e delle console next-gen stiano permettendo alla casa di fare grandi cose dal punto di vista grafico. Che si tratti del tanto rumoreggiato Fallout 4? Non potremmo saperlo naturalmente fino alle 3 2014. E passiamo adesso alle dichiarazioni di Neil Druckmann, produttore esecutivo presso Naughty Dog, il quale ha affermato che la casa è attualmente al lavoro su altri due progetti oltre a The Last of Us Remastered. Uno naturalmente è il nuovo capitolo di Uncharted e su questo non vi sono dubbi. Per quanto riguarda l'altro non ne abbiamo idea e lui ovviamente non è sceso in particolari. Speriamo naturalmente che possa trattarsi di una nuova IP. Sull'ultimo numero della rivista V-Jump, Bandai Namco ha svelato di essere al lavoro su un nuovo capitolo della serie di Dragon Ball, in sviluppo per Xbox 360, PlayStation 3 e PlayStation 4. Non è stato rivelato nulla relativamente al gameplay, è stato confermato soltanto il nome in codice del progetto, peraltro non molto originale, Dragon Ball New Project. Ne sapremo probabilmente di più dal Tokyo Game Show di settembre, al quale potrebbe essere anche prevista una presentazione in grande stile per questo gioco. La notizia era già trappelata attraverso moltissimi rumor e indiscrezioni, ma Ubisoft adesso l'ha confermato. La casa continuerà a supportare Xbox 360 e PlayStation 3, con un capitolo dedicato della serie di Assassin's Creed. Potrebbe quindi trattarsi di quel famoso comet che moltissime indiscrezioni vorrebbero ambientato nell'antica Roma. Naturalmente anche in questo caso dovremo attendere la conferenza Ubisoft delle 3 2014 per vedere finalmente il prodotto in azione. Passiamo all'insider Shinobi che su Twitter ha recentemente suggerito ai fan di Remedy Entertainment di non aspettarsi grandi notizie per Quantum Break nel corso del 2014. Secondo le sue informazioni, infatti, la casa sarebbe pronta a rimandare l'uscita del titolo al 2015 per fornire ai fan l'esperienza migliore possibile. Finché non avremo notizie più precise e ufficiali da parte di Microsoft in merito, non potremo naturalmente darvi conferma su tutto questo. Quello che speriamo tuttavia è che la casa di Redmond stia preparando una line-up corposa per questo Natale per Xbox One, dato che al momento è previsto soltanto Sunset Overdrive come esclusiva. E passiamo ad The Division che, come tutti sapete, sarebbe dovuto uscire entro quest'anno. Purtroppo Ubisoft ha parlato di un rinvio fino al 2015 per permettere ai due team allo sviluppo di dare il meglio per tutti i fan. Naturalmente alle 3 il gioco verrà mostrato di nuovo con sequenze di gioco inedite, quindi non vediamo l'ora di dirvi qualcosa di più relativamente a come sta procedendo la produzione. E passiamo adesso alle nostre immancabili top e flop news. Il top di questa edizione non può che andare a Mario Kart 8. Come avrete sicuramente già visto nella nostra recensione e video recensione pubblicate nei giorni scorsi, il gioco ci ha colpito veramente tanto, soprattutto per il track design e per il gameplay sempre solidissimo. L'unica rimostranza davvero rimane relativa al comparto online, come sempre un po' troppo limitato e speravamo di trovare qualche novità in più in tal senso. Rimane comunque di fatto la prima vera killer application per Wii U, quella tanto attesa. E il flop di questa settimana va a Bethesda. La divisione italiana della compagnia ha infatti annunciato che per problemi logistici l'edizione italiana di Wolfenstein The New Order arriverà nei negozi soltanto il 23 maggio, quindi tre giorni in ritardo rispetto a tutto il resto d'Europa. L'edizione digitale non subirà invece alcun ritardo. E con questo anche per l'edizione di oggi era tutto, noi come sempre vi diamo appuntamento al prossimo giovedì. Ciao!